Proviamo ad affrontare la cosa con serenità, esponendo le ragioni degli uni e degli altri. Poco tempo fa, sulla base di relazioni dettagliate della Municipale, su via di sotto in zona Colle a Pescara, è stato installato un autovelox tarato a 30 km orari, velocità peraltro obbligata già da tempo dai cartelli stradali. L'obiettivo dichiarato dell'amministrazione comunale è frenare i bollenti spiriti di chi scambia via di sotto per l'autodromo di Monza, perché intendiamoci che qui si corra e troppo è vero, ma è anche vero che in questa lunga strada forse l'unico punto in cui davvero si rallenta e accadeva già prima dell'autovelox è davanti alla scuola Virgilio, se non altro in entrata e in uscita. Anche perché sono presenti almeno due, spesso quattro persone, volontari o vigili, che fermano le auto per consentire agli alunni di attraversare in sicurezza. Ora c'è l'autovelox, certo, ma i piloti di Formula 1 continuano a fare quello che facevano prima, agli automobilisti più timorati invece non resta che contare le multe ricevute e pigiare ripetutamente sul freno per cercare di non superare i 30 velocità che una macchina in discesa sfiora di default. La soluzione forse verrà dal Consiglio Comunale dedicato, in remoto, o forse no. Vero è che dopo la pioggia di multe a grappolo ricevute degli automobilisti indisciplinati, il Comune ha teso una mano annunciando la realizzazione di strisce pedonali sopraelevate, proprio davanti a scuola, come utile promemoria per l'automobilista. Ma perché non farlo prima che venisse posizionato l'autovelox, prima delle multe, prima delle polemiche, in modo da abituare gradatamente il cittadino? Eppure che a Pescara la viabilità sia importante e anche politicamente dovrebbe essere chiaro. Comunque, i lavori preliminari sono iniziati ieri sera. Il progetto però non è ancora noto nei dettagli, neanche a chi dovrebbe già conoscerlo. Conclusioni? Su Via di Sotto o non ci passa più nessuno o si continua a correre, rallentando davanti alla scuola. Via Colle Innamorati è sempre più inquinata e nelle altre strade, quelle in cui vige il limite dei 30, e sono tante, da Corso Vittorio a Viale Pindaro, si fa come si vuole. Tanto non ti becca nessuno.